E mi piacciono i film fantascientifici, sci-fi in inglese, su Netflix potete trovare Men in Black International, che è nella top ten quest'oggi. Già nelle prime scene dicono per ben due volte questa cosa, shall we? Shall we? Sentiamo. Il primo dice, right, shall we? E il secondo dice, let's try this again, shall we? Che cos'è questo shall we? Beh, shall si può usare in molte maniere, quando si fa un discorso molto formale lo si può anche usare al posto del will, ma in questo caso è usato diversamente, è usato per suggerire qualcosa, per suggerire di fare qualcosa. Per esempio, sono lì con queste pistole, non si sa ancora dove stiano andando questi due, però si sa che stanno andando a fare qualcosa, perché hanno delle pistole in mano. E uno dice, right, shall we? Cioè, che dici? Andiamo? Che dici? Lo facciamo? Ci andrebbe un altro verbo dopo, shall we? Però lui non ce l'ha messo, l'ha omesso. Si potrebbe dire, shall we go? Cioè, che ne dici? Andiamo? È ora? Andiamo? Cioè, sta suggerendo di andare. Oppure, shall we do it? Che dici? Lo facciamo? Che dici? È ora di farlo? Ok. Il secondo invece dice, let's try this again, shall we? Anche qua lo omette, ma se lo prendiamo dalla frase prima è try, quindi shall we try? Che ne dici? Proviamo? Che ne dici? È ora di provare? Lo facciamo? È molto usato con il go. Quindi, shall we go? Shall we go? Siamo in un posto da tanto tempo, dopo un po' finiamo le cose da dirci con il gruppo di persone con cui siamo, ci guardiamo un po' attorno e diciamo, shall we go? Cioè, che ne dite? Ce ne andiamo? È arrivata l'ora di andare?